Dopo 57 mesi di governo regionale, di governo Marsilio e Berì, sulla sanità ci aspettavamo decisamente di più. 57 mesi spesi per non realizzare nulla sul miglioramento del sistema sanitario regionale. I servizi sanitari in questa regione sono peggiorati. Nonostante noi abbiamo superato il piano di rientro, il commissariamento, 5 anni avete avuto a disposizione. Dopo 5 anni portate all'attenzione degli abruzzesi di questo Consiglio regionale, un documento fallimentare, soprattutto per la provincia di Teramo, davvero offensivo. Questo documento è stato scritto da pochissimi, da pochissimi di questa maggioranza. Sicuramente assenti quelli teramani. Abbiamo ascoltato decine di portatori di interesse, i quali hanno manifestato tanti disappunti, hanno evidenziato lacune. Decine e decine di portatori di interesse che non hanno prodotto nessun emendamento approvato da questa giunta e da questa maggioranza. Non abbiamo ascoltato uno in Commissione soddisfatto di questo documento, di quello che lei ha approvato. Ma come avete potuto avallare un progetto del genere per la sanità teramana? 57 mesi di governo lei ha avuto per dare queste risposte alla sanità teramana. 57 mesi inutili, Assessore. 57 mesi inutili, Assessore.